Ciao ragazze, ciao ragazzi, top, 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 bene Benvenuti in un altro video haul, Tiger Oggi sto registrando un video haul, uno dietro l'altro proprio E questo qua è stato fatto da Tiger, infatti penso che avrete già visto il vlog E Davide mi ha comprato tutte queste cose Eravamo entrate solo per l'agenda, ma come si fa ad entrare da Tiger? E prendere solo una cosa, è praticamente impossibile Quindi vedendo tutte queste cose non si poteva lasciarle là, non si poteva non prendere, giusto? Top, bene Ora vi mostro le cose, ora vi mostro le cose un po' unicornose e natalizie Già cose natalizie, che mi riempie veramente di gioia perché io amo il Natale E fra un po' ci sarà tutto a tema natalizio Vi mostro le cose senza perdermi ulteriormente in chiacchiere Ah vi voglio far vedere una cosa prima di cominciare l'haul Praticamente mi hanno dato anche il catalogo, questa è la prima volta che mi danno il catalogo da Tiger Cioè non me l'avevano mai dato E ci sono tutte le cose di Natale, tutte le cose con gli unicorni Non so se vi interessa un video specifico su questo catalogo Fatemi sapere che così vi faccio vedere Per esempio ci sono per ogni cosa Aspettate Ecco per esempio vi faccio vedere qua Che per ogni cosa indica il prezzo Quindi possiamo sapere il prezzo di tutto Come per esempio qua dietro Contenitori 3 euro Questi fatti in questo modo Ovviamente se vi interessa il video Ve lo faccio, mi appoggio Vi faccio dall'alto, nel dettaglio Ve lo faccio vedere bene E quindi sfogliamo il catalogo di Tiger Se vi può interessare Fatemi sapere E io vi faccio il video di questa cosa qua Beh, ok Ora vi mostro le cose che mi ha comprato Davide Come prima cosa a tema unicorno Le cose per Natale le lascio per ultime Mi ha preso questi due slime Che sono slime veramente Pucciosissimi Dove si può trovare dentro Dove si trova dentro l'unicorno E questo pure Praticamente Questo qui è azzurro E questo qui è rosa In quello rosa si troverà l'unicorno Azzurro credo E in quello azzurro si trova l'unicorno rosa Penso di aver capito bene Sì Comunque O viceversa O versavice Ok, dopo questa battuta Squannidissima Direi che è il caso di Stendere un velo pietoso Scherzo Comunque Prestissimo Sul canale Ah, comunque A proposito di slime Sul canale di coppia Faremo il video sui slime Infatti Abbiamo già comprato diversi slime In edicola E faremo vedere tutti i nostri slime Poi faremo con voi anche Dei slime Li uniremo Faremo esperimenti Cose Appunto Questo tutto sul canale di coppia E E poi faremo vedere anche La nostra collezione di squishy Insomma Questi e questi qua Per farvi capire più o meno Di che cosa Apparerà anche il canale di coppia Oltre che gli scherzi E cose Perché Al momento siamo un attimino Fermi Però Arriveranno tantissimi video Perché comunque Davide ha avuto da fare Il canale Essendo di coppia O li ha fatti solo lui Io li facevo per questo Ok Non mi fermo più Sto parlando interrottamente Comunque Con calma Se non si è capito Fateci caso Ho bevuto il cappuccino Io quando bevo il cappuccino Sono tipo elettrizzata Come se avevi preso la scossa Comunque Il cappuccino D'orzo Ho bevuto Non proprio di caffè Comunque Vabbè Molto bene E Niente Questi due slime qua Questi qua costavano Due euro l'uno E per carino Perché c'è anche Il barattolino Comunque Avete capito Gli slime Sperimenti e cose Li faremo sul canale di coppia Se non siete iscritti Vi invito a iscrivervi Davide e Chiara Channel Che vi lascio sempre Nell'info box E a fine video Vi c'è sempre il pallino Così se volete iscrivervi Potete iscrivere Finalmente Finalmente Anch'io Questa agenda Stupenda Guardate Che bello La cosa che Mi lascio un attimino Così Che tutte le agende Praticamente Hanno Questo segno Perché sono tutte Una appiccicata All'altra È un segno Così Penso Che possa venire via Non lo so Perché è stato proprio È stato schiacciato Perché vedete Come questi Erano messe Una Attaccata all'altra Non ho ben capito E questa E questa Tra tutte Era veramente La meno rovinata Anche qua C'è un piccolo Segno Anche qua Di questo Che praticamente Non lo so Comunque qua Ci posso mettere Un ciondolo E non si nota Molto È fatta in questo modo Dentro A questa Taschina Cioè Ma guardate Come Sbrilluccica Qua ci sono Vabbè Questi inserti Qui Che poi Vabbè Cambierò Qui si apre Così Vedete vedere Questa qua È formato Personal La taschina Qua Poi se vi interessa Il setup Questo lo farò A tema Unicorno E poi Questa qui La farò appunto A tema Unicorno E guardate qua Che avete visto Sicuramente In un video precedente Cioè Ditemi se non è Un amore Cioè È identica Praticamente Questa pochette Andrà adibita Per questa Agenda Questa pochette Qua La adibirò Per questa Quina No io adoro No guardate No è veramente Stupenda Cioè Super super Orografica Bellissima Veramente Bellissima E questo Non potevo Non abbinarlo Con questa agenda Questo Astuccino qua Non potevo Non abbinarlo Con questa agenda Se vi state Credendo dove L'ho preso Questo qua L'ho preso Mi ha regato Mia suocera Che è dentro Una rivista Che si chiama Spy E c'era Questa cosa qua Non so Penso che si trovi Ancora In edicola E quindi Se vi interessa In edicola Con la rivista Spy Che avete Della pochette Elegante Così si chiama Però La pochette Unicornosa Bellissima Adoro Bene Ok Poi Poi Sempre a tema Unicorno Ho preso Queste due Matite Adesso ve le faccio Vedere E anche questo qua Hanno un po' Di olografico Questa collezione Tiger Ha fatto Veramente Delle cose Carinissime Vedete Che È tipo È tipo Un pochettino Olografica Qua c'è L'unicorno Sono due E queste qua Sono costate Solamente Un euro Ah L'agenda Quattro euro È sposta A chi interessa Comunque Quattro euro È veramente Carinissime Queste matite La coppia Un euro C'è È super top Ovviamente E ora Vi faccio Delle cose Natalizie Che sono due Però Sono troppo belle Allora Questa Tazza Che è Veramente Troppo Pucciosissima C'è Il pupazzo Di neve Che ha Il cappello Che fa Da tappo Praticamente Un tappo Tipo Un silicone Hermetico Ed è bellissima Qui Per bere Tisane calde La cioccolata Con la panna È bellissima Veramente Guardate È adorabile Questa qua Costa Aspettate che guardo Questa qui È costata Quattro euro Poi Come ultima cosa Una chicca Stupenda Questo pezzo È il pezzo forte Oltre l'agenda Ma questo qui Io Adoro Veramente Cioè È bellissimo È qualcosa Di stupendo Guardate Questo ho pagato 6 euro Ed è un'alzatina Stupenda Cioè Guardatela Guardate Prendiamo un attimo Di tempo Per guardare Questa magnificenza Guardate Tadà No Non è stupendo Cioè Babbo Natale L'alzatina Babbo Natale Che c'ha Gli stivali La mezza pancia Di Babbo Natale È stupenda È fatta bene Qua c'è il logo Tiger Qui cosa c'è scritto Piatto per torta Vabbè Comunque qua si può mettere una torta Oppure si può mettere delle cosine Tipo O profumi O dei gioiellini O delle cose Comunque per decorare A Natale È veramente carinissimo Non potevo Non prenderlo Ed è Veramente bellissimo Cioè Adoro Potemi sapere che cosa ne pensate Di questa l'alzatina Non è stupenda Top Bellissima Io l'alzatino La amo Questa è la tazza Guardate No è subito Natale Che bello Io non vedo la carina Natale Bellissimo Cioè è stupenda Guardate Troppo troppo bella È bellissimo Mi sa che questa tazza qua Andrò a comprare un'altra Per Davide Perché sono sicura che Me la fregherà E quindi Bisogna assolutamente Prendere un'altra Così abbiamo Ognuno alla sua E' carina Comunque Bene Sperate che appoggio Prima che rompo qualcosa E bene Queste erano le cose Che ho preso da Tiger Che Davide Mi ha regalato Sto tanto paziente Poverino Ancora il male al piede È venuto lo stesso Comunque quasi guarito Adesso 17 Andremo Appunto A fare la visita di controllo E Ci diranno Appunto Se deve proseguire O se è andato tutto a posto Bene Io vi ringrazio ancora Tutti quanti Grazie a tutti i nuovi iscritti Grazie a tutti i iscritti